oggi facciamo i gogosh sono dei dolci rumeni quante uova ci sono noi abbiamo messo due uova poi mettiamo un po di farina un po di zucchero facciamo a occhio senza le misure precise regolatevi poi poi ci va un po di lievito si fa sciogliere si fa riposare cinque minuti e poi si mette allora abbiamo messo anche il latte abbiamo messo anche un po di buccia di d'arancia e un po di buccia di limone e anche un po di zucchero vanigliato allora abbiamo finito di impastare adesso la teniamo un po che deve lievitare quindi deve aumentare un po il volume ecco il gogosh e questi sono i gogosh tradizionali quelli rotondi adesso poi vengono fritti nell'olio e poi vengono guarniti e poi vengono fritti nell'olio e poi vengono fritti nell'olio